Mi ha asciutto quest'uomo! Che lo sopporto! A parte, va bene, Artù? No, 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 a parte, no, 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 a parte il succo di frutta, ah, sì, sì. Quindi direi che... Rotola! 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 Quindi direi che... Scusa, Luca, ma anche i... Sì, va bene, però non è che io... Cioè... grazie grande e un bacio ha fatto una cosa mondiale noi non ci abbiamo perso tanto ci hai dato 50 euro per venire qua quindi a nome di raffaele raffaele a tre giorni di torno abbiamo fatto la 24 ore a nome di raffaele della marta della marta di anche boletus di oggi si è detto che noi e di turma 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 ha chiamato basta domani vado a chi l'ha visto va bene grazie grande veramente ma grazie grazie una cosa meravigliosa quindi è il discorso anche te Paolo bene adesso potresti anche darci dietro gli 80 euro dopo questa cosa no 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 tu credi di cagartela così e col cazzo non siamo venuti dalla Liguria o dalle Pignano a me andando al Veneto per dire due cazzate eeeh vaffanculo adesso con le donne doventi adesso i baci anche lui un altro bacio lo posso portere e lui è lì oh oh a me e a me a me e a me a me a me a me a me un regalo ah non lo so io è lui ma ha detto ragazzi voi fate quello che ho detto lui è lì sei sicuro? ahahah sei sicuro? ahahah sei sicuro? sei sicuro? sei sicuro? sei sicuro? no sei sicuro ve lo da lui io c'ho una perla che non... dai 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 magari è più disponibile lui no questo non la sa nessuno è da me dal 1832 cazzo guarda che avevo scoperto quando vedi il ceca della daia è datata sei... 1328 concorso fotografico di sei anni nooo questo è il C meglio eh cazzo è quella storica nooo no che si dà ma che bella brutta come nemmeno nemmeno la vorrei guardare si la mia è già consumata la mia però eh si no ma grazie grazie quando questa l'ho vinta no? eh beh ce l'avevo io ma quando vedi Paolo mi dico vabbè non lo vedo mai lei ha vinto solo cinque anni fa però me l'ho portata all'Eco Day sei anni fa presto a posto si di Monzuno il primo il solito Chanel numero cin sei sei sette otto quattro quattro e poi due due era tre tre quarti gli ultimi gli ultimi gli ultimi gli eri spesi per chiamare bugni per chiamare bugni era tre tre quarti no da tre e mezzo a cinque dopo ho aumentato il verso su va bene va bene poi facciamo su come si il tempo ce lo diamo cari eh domani mattina non mi riesco domani mattina l'ho aperto non consumava a tenere il telefonino per quel tempo perchè ma quando facciamo una foto si è posto e poi lo metti male e poi lo metti male e poi lo metti male e no c'è un F9 e no c'è un F9 che l'avete fatto voi quei pacchettini vado a prendere le forbici si ragazzi chi è che oggi è? Max Max coltellino dove va a mangiare non l'hai fatto non l'hai fatto non l'hai fatto che la foto della cassetta quei fumi no l'ho fatta io l'ho fatta me la giri dopo che me l'hai chiesta si va bene ma gliel'ho mandata e lei mandata a chi? no a chi lei mandata? ma è uno scherzo eh? non ce l'ho fatto no oh oh ci siamo quasi oh 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 è un libro di Miko oh è un libro sui fumi di Miko sì però è in greco ha la faccia del regalo è in greco posso andare con chi voglio? no tu vuoi lanciarla scusa tu vuoi lanciarla non puoi prendere è sopportetta grazie guarda che c'è la U io mi sono preso in figa per due notti lo davo a me non mangio grazie davvero di solito fate voi un regalo voi ce l'avete fatto a noi voi ci avete fatto un regalo che non avete nemmeno l'idea di che regalo a parte lui scusate però è da ieri che scassi la micca con sto animaletto è un animale non credi non mi dite non ci puoi scassare la micca è due giorni ok via io adesso per due mesi con la casa mia no no so il maiale so il maiale so la cartaruga so il maiale che te lo mette a vedere io posso solo dire che ieri quando sono arrivato con Muglia mi sono avvicinato da casa la prima cosa che ho sentito ecco sono arrivato il cane il cane il cane il cane il maiale il cane il cane il maiale il macchino il macchino non funziona niente ma io sai che a casa non mi sta chiedendo ma dà già comprare la città 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 la città